Disco Dance di Gianmaria alle 17.10 su Radio FM1, nel frattempo mentre ascoltavamo questo brano musicale è arrivato nei nostri studi Don Giordano Trapasso, vicario generale dell'Archidiocesi di Fermo. Buon pomeriggio innanzitutto. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora praticamente domenica dicevamo nel cuorionda sarà il giorno dell'ascensione, che cos'è in realtà questa festa per chi non ne ha conoscenze, per tutti gli spostatori che ci stanno seguendo? Diciamo che questa solennità fa parte del mistero pasquale, tanto è vero che in una delle preghiere eucaristiche, quando facciamo riferimento alla Pasqua, la Pasqua comprende la gloriosa risurrezione e l'ascensione al cielo di Gesù. Quindi diciamo che la Pasqua è il giorno della risurrezione, la Pasqua comprende poi quei 50 giorni in cui il risorto, ci dicono i Vangeli, si manifesta risorto ai suoi discepoli e mangia anche con loro. Poi ecco la Pasqua comprende anche come dire l'esito della vita terrena di Gesù. L'esito è la salvezza, lui ci ha salvati con la sua morte e risurrezione e poi Gesù ci dice il quarto Vangelo, già nel Cenacolo annuncia ai discepoli che lui fa ritorno al padre. Quindi diciamo che è connessa alla Pasqua in realtà, io in realtà non lo sapevo ecco, quindi ero curioso proprio di sapere da dove deriva questa festa e quindi è connessa al periodo pasquale sostanzialmente, una sorta di prolungamento. Sì, è un aspetto della Pasqua perché in fondo la nostra salvezza inizia col fatto che il verbo si è fatto carne, a Natale in fondo abbiamo celebrato questo, ma che il figlio di Dio si è fatto uomo significa che per obbedire al padre e per condividere in tutto la vita degli uomini l'incarnazione è costata perché il figlio di Dio ha assunto tutto della nostra vita, anche la sofferenza, anche il dolore, fino al mistero della sua passione e della sua morte, una morte anche ingiusta, violenta. Ora ecco, l'incarnazione dice questo abbassamento ma è un abbassamento che porta alla gloria perché in fondo il figlio di Dio facendo così testimonia quanto Dio ci ama e l'amore di Dio sempre rialza e risolleva. Quindi Dio risuscita suo figlio da morte e in questo senso colui che dal padre è disceso al padre ritorna. Ma questa volta ritorna perché anche? Lui ritorna da figlio di Dio fatto uomo, ritorna con il suo corpo che è crocifisso e risorto, quindi con l'ascensione è anche l'umanità che sale a Dio. E quindi questa solennità ci dice in fondo due cose. La prima è che la nostra umanità è così preziosa che Dio l'ha assunta e la vuole in sé. Quindi, e due, è una solennità che ci ricorda il senso della nostra vita. In fondo la nostra vita è un mistero che viene da Dio e a Dio ritorna. E come mai si festeggia così, diciamo, a circa un mese e mezzo dalla Pasqua? Perché? Perché la Chiesa nella sua storia, pensando alla Pasqua, ha anche sviluppato un tempo di Pasqua. Ci sono cinque domeniche di Pasqua in cui i Vangeli ci aiutano a fare tesoro di quello che abbiamo celebrato a Pasqua. Ci dicono i vari aspetti della Pasqua e questo è il tempo in cui la Chiesa fa memoria di che cosa? Di Gesù risorto che prima di salire al Padre si è manifestato ai suoi. Perché in fondo i Vangeli di Pasqua ci dicono che non è stato facile per i discepoli credere al risorto. E quel giorno, il giorno di Pasqua, le donne lo incontrano, vanno anche a raccontare a discepoli di averlo visto risorto, ma i discepoli non credono alle donne. E quindi Gesù si manifesta, ma non solo la sera di Pasqua. Il quarto Vangelo ci dice che quella sera, tra l'altro, non erano tutti, mancava Tommaso. Quindi il Signore risorto si manifesta otto giorni dopo, quando c'era anche Tommaso. E quindi ecco, questo tempo ci dice gli incontri di Gesù risorto con i suoi, che poi nella Chiesa sono gli incontri che viviamo ogni domenica nell'Eucaristia, che non a caso è Pasqua della settimana. E questa solennità precede poi la Pentecoste, perché la Pentecoste, la stessa parola, dice 50 giorni dopo la Pasqua ed è il dono dello Spirito Santo. E quindi arriviamo proprio alla Pentecoste. E lo stesso volevo un po' chiedere quali sono le origini di questa festa, e lo stesso che cosa significa? Allora, diciamo che gli studiosi, per quello che riguarda l'origine della Pentecoste, mettono insieme due derivazioni. Una, sempre legata alla storia del popolo di Israele. Una è una sorta di festa della mietitura. Ecco, giugno è il mese. Infatti è giugno. Appunto. Perché? Perché chiaramente il popolo di Israele, schiavo in Egitto, viene liberato dall'Egitto, dopo un cammino di 40 anni nel deserto, entra nella terra promessa. E come entra nella terra promessa? Inizia un tipo di vita diverso, non più nomade, non più la pastorizia, ma c'è la terra, quindi c'è l'agricoltura. E quindi chiaramente trovano queste feste, le feste della mietitura, ma che arrivano anche fino ai nostri giorni, qualcuno ancora le fa, no? O le rievoca. E quindi era legata a questa festa, perché comunque la terra e i prodotti della terra. Poi però, ai tempi di Gesù, questa festa era stata anche legata alla storia della salvezza, al cammino del popolo di Israele. E quindi in questa festa, gli ebrei, ecco perché il Libro degli Atti ci dice che a Pentecoste, quando lo spirito scende sugli apostoli, in realtà a Gerusalemme c'era una festa, c'era tanta gente. Perché gli ebrei commemoravano in quel giorno il dono della legge sul Monte Sinai. Ecco, quindi dunque questo qui è anche il senso di quello che è la Pentecoste, che si rifà a un rituale in realtà che è quello della mietitura del grano. In parte è legato a questo, però diciamo che la Pentecoste, come solennità cristiana, va inquadrata sempre nella Pasqua di Gesù, in questo senso. Intanto il quarto Vangelo ci parla di due momenti in cui Gesù effonde lo spirito. Primo momento sulla croce, perché quando Gesù muore, il quarto Vangelo non usa il verbo morire, ma dice Gesù consegnò lo spirito. Ecco, quindi lì potremmo dire per San Giovanni è una prima Pentecoste. Poi sempre il quarto Vangelo ci dice che il giorno della risurrezione alla sera il Signore risorto si manifesta nel cenacolo ai suoi, entra a porte chiuse e la prima cosa che fa, dice Giovanni, ha litoso di loro. In fondo lo spirito è il soffio, la rua, e disse ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete saranno non rimessi. Quindi questa potrebbe essere, tra virgolette, una seconda Pentecoste. Il Libro degli Atti ci dice che cosa? Che dopo che Gesù è salito al Padre, e l'ascensione è sì Gesù che ritorna al Padre, ma è anche il momento in cui Gesù affida un mandato missionario, perché dice agli undici andate, battezzate, ammaestrate. E allora gli undici con quale forza affrontano questa missione? Ecco allora la Pentecoste. Allora gli Atti degli Apostoli ci dicono che il giorno di Pentecoste, mentre c'era questa festa a Gerusalemme, in realtà gli undici erano chiusi nel cenacolo, impauriti gli Apostoli. E entra lo Spirito Santo, sotto la forma di lingue di fuoco, si posa sugli Apostoli, su ciascuno, e da quel momento gli Apostoli escono allo scoperto e in quel giorno annunciano la morte e la risurrezione di Gesù nella lingua di tutte le culture presenti a Gerusalemme. Quindi per gli Atti degli Apostoli potremmo dire la Pentecoste è il compleanno della Chiesa. La Chiesa ufficialmente esce allo scoperto quel giorno. E quindi un'altra festa sicuramente importante per tutta la comunità, oltre quella della Pasqua, che è praticamente la festa un po' centrale, no? Che poi prosegue ecco quindi con l'Ascensione e la Pentecoste, come dicevamo con Don Giordano Trapasso, Vicario Generale dell'Archidiocese di Fermo. E arriviamo quindi al Corpus Domini poi. Che cos'è in realtà? Allora, diciamo questo, che con la Pentecoste si conclude il tempo di Pasqua. Quindi dopo la Pentecoste inizia quello che noi chiamiamo tempo ordinario. C'è un tempo liturgico che andrà fino al prossimo avvento, in cui nella ordinarietà nel tempo, noi non facciamo altro che celebrare quei misteri che in maniera forte abbiamo celebrato avvento natale e a Pasqua. E il tempo ordinario inizierà con due solennità. La prima è la Trinità. Quindi la prima domenica del tempo ordinario dopo la Pentecoste è la domenica in cui la Chiesa celebra la solennità della Trinità. E' come se la Chiesa ci aiutasse a capire una cosa, ma in quello che abbiamo celebrato, soprattutto nella Pasqua, Dio, come si è fatto conoscere? E allora la Chiesa dice, se io vedo quello che ho celebrato, ci rifletto, Dio si è fatto conoscere, sì che Dio è l'unico Dio, ma in realtà come una comunione di persone. C'è un padre che ha mandato il figlio, c'è un figlio che ha donato lo spirito, c'è lo spirito che è il legame d'amore tra padre e figlio ed è il dono fatto a noi, c'è un padre che è coinvolto nella sofferenza e nella morte del figlio e che risuscita nello spirito il figlio. Anche perché il senso di comunità è molto importante nella religione. Esatto, infatti per noi cristiani in particolare, perché se Dio è un mistero d'amore, è una comunione di tre persone, una unità di tre persone che pur distinte, ma convergono in uno, agiscono all'unisono, e allora tanto più noi facciamo conoscere Dio quando siamo uniti, quando c'è una comunità. Poi, ecco, la domenica successiva è la solennità del Corpus Domini, perché tutto questo dove in particolare lo celebriamo, certo in ogni sacramento, ma in particolare nell'Eucaristia. Nella domenica del Corpus Domini noi abbiamo quella che è una processione diciamo tra virgolette obbligatoria. Cioè altre processioni sono frutto di tradizioni locali, si fanno, in qualche parte no, ma quella del Corpus Domini è proprio voluta dalla Chiesa. E se ci pensiamo bene, la processione del Corpus Domini è proprio una processione missionaria, perché in fondo la Chiesa cosa fa? Porta il Santissimo Sacramento nelle vie dei paesi e delle città, perché in fondo qual è la nostra missione di cristiani? Ogni giorno, portare il Signore lì dove noi viviamo, lavoro, a casa, nei luoghi del tempo libero, nelle vie di una città, in un quartiere. Quindi diciamo in un certo senso è un po' come la processione che si fa durante la Passione, no? Del Venerdì Santo, che è praticamente una processione che si fa dappertutto, in tutta la comunità. Sì, ogni processione è, se ci pensiamo bene, un atto di amore e anche un atto di espressione della fe, in un contesto che è anche civile, sociale, cioè si va per le vie di un paese. La processione del Venerdì Santo in genere è molto vissuta, o dove non c'è la processione ci sono le vie a Crucis, insomma c'è sempre qualcosa, è una pratica di pietà, ecco, che ci aiuta a meditare quello che si celebra nella liturgia della Passione, cioè la Passione e morte di Gesù. Il Corpus Domine è una processione, ma in quel caso voluta dalla Chiesa ovunque, perché ovunque siamo chiamati a portare il Signore. Mi viene in mente il discorso del Cardinal Bergoglio al conclave, in una delle sedute prima di essere eletto Papa, no? quando lui, commentando il versetto dell'Apocalisse, dove il Signore Risorto dice io sto alla porta e busso, se uno mi apri io entrerò e cenerò con lui, ecco, il Cardinal Bergoglio allora disse noi questa frase la intendiamo sempre nel versante del Signore che da fuori bussa e vuole entrare nella nostra vita, in noi. oggi, dice lui, va intesa più che altro come il Signore che dal dentro dei tabernacoli delle chiese bussa e dice per favore fatemi uscire e fatemi incontrare gli uomini e le donne della vostra città. E oltre alla processione ci sono anche altre iniziative sia per il Corpus Domini ma anche per le altre feste come l'Ascensione la Pentecoste? Ma diciamo questo intanto spesso nella processione del Corpus Domini ci sono le caratteristiche infiorate anche in diversi nostri paesi quindi come dire non solo si porta il Santissimo c'è un'espressione corale ecco di devozione di amore per l'Eucaristia si vuole accogliere nel migliore dei modi Gesù che passa per le vie della città quindi questo è uno degli aspetti anche belli in giro in generale ma anche nella nostra diocesi nelle altre solennità diciamo soprattutto nella Pentecoste a volte c'è anche la veglia di Pentecoste ecco che si può fare un po' sulla scia della veglia pasquale e in genere in quel giorno ad esempio nel nostro Duomo si celebrano le Cresime poi tutto il tempo di Pasqua è disseminato di Cresime però è il giorno per eccellenza che ricorda anche il sacramento della Cresime benissimo allora grazie a Don Giordano Trapasso per questo espursus che ha riguardato l'ascensione la Pentecoste e il Corpus Domini Don Giordano Trapasso vicario generale dell'Archidiocesi di Fermo per essere intervenuto in questo pomeriggio su Radio FM1 grazie a voi e buon pomeriggio a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.